Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di BNP Paribas organizzato insieme con Enrico Lanati di investire.biz e oggi parleremo di strategie di trading sulle materie prime, quindi oro, gas naturale, petrolio e anche altre su cui magari voi potete essere interessati. Come al solito, la mia idea sia anche quella di Enrico e quello di cercare di essere il più interattivi possibile, quindi non fatevi problemi a fare domande, siamo qui anche un po' per questo e quindi non siate timidi da questo punto di vista. Ora comincio a condividere il mio schermo. Intanto passo la parola a Enrico Lanati di investire.biz e magari ci può fare una breve introduzione sulle materie prime, sullo scenario magari o su cosa è importante prima di approcciarsi a questa classe di sottostanti che negli ultimi mesi è diventato un po' volentonolente al centro dell'attenzione. Sì, sicuramente. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi questa mattina, è veramente un risultato che devo dire la verità alle 10 del mattino non mi aspettavo. Questo vuol dire che c'è interesse. Io prima di andare a parlare di strategie sulle materie prime, io vorrei fare un cappello perché le materie prime sono spesso dimenticate da parte degli investitori e invece secondo me hanno diverse cose di particolare interesse che vanno approfondite, da un lato con riferimento agli investimenti e dall'altro con riferimento al trading. Perché anche la Banca Mondiale recentemente nei report che fa ha sempre detto guardate che all'interno di un portafoglio particolarmente diversificato non è importante investire soltanto in azioni, obbligazioni e altre cose ma è giusto inserire una componente di materie prime per diverse ragioni. Per esempio sapete che il tema dell'inflazione è un tema piuttosto importante in questo periodo, sapete che è difficile per le banche centrali raggiungere quei livelli di inflazione del 2% che diciamo è un qualcosa che sta cercando di raggiungere sia appunto la BCE ma anche la Fed. Ebbene, le materie prime di fatto sono qualcosa che ci difende dall'inflazione, soprattutto quelle magari anche noi oggi ci concentreremo su oro, gas, naturale e petrolio ma sapete che ci sono tante altre materie prime legate per esempio al diciamo tutto quello che è il comparto alimentare quindi soia, avena, succo d'arancia e questo genere di colma, i vari tagli del maiale eccetera eccetera quindi insomma sicuramente è un qualcosa di interessante. Noi oggi quindi ci concentreremo sulle materie prime e vedremo come speculare perché ovviamente Bempe Paribas ci dà la possibilità di utilizzare dei prodotti che sono appunto che sono a live e che ci danno la possibilità di guadagnare da queste situazioni. Molto interessante secondo me l'oro in questa fase e vedremo tutta una serie di cose secondo me legate all'oro. Se faccio un cappello poi ti lascio la parola perché vedo che c'è una presentazione appunto da passare così vediamo tutti i vari dati importanti ecco con riferimento all'oro, l'oro mi piace molto in questo periodo e ci sono tutta una serie di analisi che secondo me bisogna fare e insomma li approfondiremo dopo. Ti do la parola? Sì, 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 giusto un piccolo intervento su cosa sono i certificati diciamo molto in generale alcuni di voi vedo dai nomi che sono già avete partecipato in passato altri magari saranno un po' più nuovi su questo argomento quindi i certificati cosa sono? Sono dei prodotti che vengono quotati in borsa e possono essere comprati e venduti in qualsiasi momento diciamo le strutture sembrano alla fine molto particolari ma l'idea di base di fondo come già introduce Verrico è molto semplice abbiamo dei prodotti long abbiamo dei prodotti short con i prodotti long andremo a guadagnare se il sottostante guadagnerà di valore viceversa con i prodotti short se il sottostante dovesse scendere il tuo prodotto avrà un guadagno positivo sono quotati su borsa italiana c'è BNP Paribas in qualità di market maker ma nulla vieta che anche altri terzi possano intervenire e comprare e vendere il prodotto sul mercato noi abbiamo un sito investimenti.bnpparibas.com ora magari provo anche a farlo vedere è il sito in cui è possibile trovare tante informazioni interessanti allora ecco qua spero si veda e su questo diciamo su questo sito troverete come diverse pagine dedicate alle decine di tipologie di prodotti che abbiamo quelle su cui ci concentreremo ora sono nella parte Certificate a leva, Turbo Certificate e Mini Future Certificate quindi qua dentro troverete tutte le informazioni ultimo cosa un po' noiosa di questa prima parte ma decisamente rilevante è la fiscalità i Certificate sono dei prodotti che generano redditi diversi questi redditi diversi vengono tassati al 26% ma a differenza di altri strumenti finanziari come ad esempio fondi comuni etf hanno una fiscalità che diciamo qualcuno potrebbe definire vantaggiosa perché il credito di imposta generato da minusvalenze può essere utilizzato per diciamo può essere compensato con i Certificate quindi se in passato abbiamo avuto minusvalenze da fondi o obbligazioni ed azioni possiamo comunque compensarlo con i Certificate questo è vero diciamo indipendentemente dalla tipologia di Certificate di cui stiamo parlando i sottostanti diciamo su cui noi siamo attivi sono quelli che vedete qua abbiamo le catene sui mini-fuge, le catene del Brent del test naturale del RAM e del WTI e più diciamo scritti sullo spot quindi sul presto spot del sottostante Platino, Argento, Oro, Palladio quindi diciamo un po' i metalli preziosi per quanto riguarda i Turbo la gamma è un pochettino più ristretta abbiamo diciamo lasciato perdere il RAM per quanto riguarda i prodotti su Futures e Palladio e Platino per quanto riguarda invece quelli sullo spot ora Enrico magari ti rilascio la parola a te mentre aspettiamo se ci sono eventualmente qualche domanda che come sempre ben accetta se vuoi fare magari un se vuoi parlare di una materia prima su cui hai fatto qualche analisi o insomma ti trovi particolarmente interessante Sì, se vuoi possiamo fare una prima analisi sull'Oro ma vi voglio portare a vedere quella che è la stagionalità quindi Aspetta, guarda che ti faccio presentatore Ok Ok Prendo lo schermo Anzi, prima di tutto vorrei fare un'altra cosa ancora dovrebbe vedersi il mio schermo lo vedete? Sì, 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 confermo si vede Vedete il grafico di Eurodollaro? Yes Ok, perfetto perché io non lo vedo cerchiato però se voi mi confermate che lo vedete allora come prima cosa Matteo vorrei fare una roba che non c'entra niente visto che io con voi faccio Turbo Daily abbiamo praticamente siamo a tipo 3 pip dal raggiungimento del target sul trade che abbiamo dato su Eurodollaro l'altro tipo ieri e quindi vorrei farti vedere innanzitutto l'inserimento dell'ordine così lo andiamo a chiudere così vediamo anche proprio operativamente come si opera e poi dopo andiamo a fare l'analisi sull'Oro però visto che siamo praticamente arrivati a target io questo lo metterei in tempo reale quindi metterei 6 e 35 ok, questo è il nostro valore abbiamo al momento 1800 pezzi se andate a vedere le vecchie puntate di Turbo Daily vedrete appunto che abbiamo inserito questo ordine ovviamente l'ordine è un ordine di vendita perché appunto siamo già long di 1800 pezzi lo vedete qui ecco questo giusto per darvi un'idea quindi tra l'altro appunto le commodities si negoziano prevalentemente in dollari quasi esclusivamente in dollari quindi il fatto di aver iniziato diciamo con Euro-Dollaro è una cosa che può essere anche carina adesso però io mi concentrerei sull'Oro e sull'Oro voglio partire un pochettino più da lontano ovviamente se ci sono delle domande fatemele che le approfondiamo allora il tema dell'Oro secondo me è molto interessante se andiamo a vedere quella che è la stagionalità io se seguite un pochettino il nostro sito sapete che ogni anno faccio un trade sull'Oro verso Natale non so chi di voi ci segue da diverso tempo però diciamo c'è una stagionalità sull'Oro particolarmente positiva verso l'inizio dell'anno pensate che parlando con un amico gioielliere io gli ho detto guarda io generalmente faccio il trade al rialzo sull'Oro a inizio anno e lui mi ha detto vabbè cosa ci vuole è normale si sa che l'Oro a inizio anno sale sempre no? gli ho detto no aspetta un attimo io non è così normale io sono gioielliere lo faccio a 50 anni le quotazioni dell'Oro a inizio dell'anno salgono ebbene voglio farvi vedere la stagionalità perché soprattutto sulle commodities la stagionalità tende a funzionare piuttosto bene e di conseguenza se poi andremo a vedere il grafico vi renderete conto come effettivamente questa cosa negli anni si ripeta ecco io tendenzialmente vado long verso la metà di dicembre vedete che c'è sempre questo movimento piuttosto alto nell'ultimi 6, 7, 8 anni a memoria si è sempre verificato questo movimento adesso ci troviamo qui sostanzialmente ci troviamo a metà di luglio e potrebbe partire il nuovo impulso diciamo rialzista con la metà di agosto quindi in questo mese potrebbero esserci dei ritracciamenti diciamo a livello stagionale poi dovrebbe esserci l'ultima forza diciamo rialzista sull'Oro ricordiamoci una cosa l'Oro tendenzialmente sale è vero che si dice che c'è una correlazione negativa rispetto a quello che è il mercato azionario però abbiamo visto come l'Oro nel corso degli anni si sia apprezzato particolarmente tra l'altro se andiamo a vedere questo grafico stagionale vediamo che il rendimento negli ultimi 20 anni insomma è stato di circa un 8% poi ovviamente con fasi di maggiore espansione e fasi di maggiore contrazione però di fatto questo è quello che avviene sul mercato dell'Oro una cosa interessante è che lo spunto rialzista se andiamo a considerarlo per oltre la metà avviene dalla metà di dicembre a la fine di febbraio ovviamente questi sono dati statistici non è che adesso voi a fine anno mettete long di oro e sicuramente farete il 5% di performance non è così però diciamo che statisticamente negli ultimi anni è successo questo passiamo ai prodotti di BNP Paribas ovvero cosa offre BNP Paribas in questo momento sull'Oro e quali sono le opportunità che abbiamo per fare nel frattempo leggo anche un po' qualche domanda che sta avvenendo se le avete se le avete le domande mi raccomando fatele che così nel frattempo vi rispondiamo quindi Martina scrive dal momento che ultimamente è già salito tanto per quello che è successo non potrebbe generare modifiche alla stagionalità? sicuramente questo può avvenire Martina però noi dobbiamo anche considerare quello che è lo scenario che stiamo vivendo in questo momento sostanzialmente abbiamo un mercato azionario che si sta riprendendo e si sta riprendendo con particolare forza abbiamo un mercato dell'oro che non ha mollato e sappiamo che generalmente sono inversamente correlati questo significa che probabilmente o il mercato azionario è particolarmente pompato sostenuto da qualcuno da qualcosa oppure che le quotazioni dell'oro sono esagerate ecco io in questa fase ritengo che sia più corretto essere long di oro piuttosto che di mercati azionari è vero che i mercati azionari salgono perché non c'è oggi un'alternativa all'oro scusate al mercato azionario perché sapete che le obbligazioni hanno tassi prossimi allo zero negativi e di conseguenza l'unico strumento sul quale si può andare a cercare dei rendimenti è il mercato azionario le banche centrali di fatto stanno comprando tutto quello che è lo stock di debito che c'è in giro e se uno vuole fare un minimo di rendimento deve andare sul mercato azionario per questa ragione le borse salgono almeno io la vedo così non so se Matteo è d'accordo con me Matteo? è sicuramente un'anal che è più che condivisibile diciamo ci sono stati sforzi delle varie banche centrali diciamo in maniera molto poco differenziata geograficamente che probabilmente hanno sostenuto sia i corsi delle obbligazioni sia anche i corsi azionari questo probabilmente ha beneficiato i vari materiali preziosi in particolare l'oro è il più conosciuto ma non è assolutamente l'unico sia come diciamo protezione da diciamo dai tassi di interesse negativi sia anche come copertura diciamo per l'inflazione quindi è un po' un'analisi che mi sento di condividere nel mio piccolo ecco vabbè no invece un altro tema interessante noi abbiamo i vari portafogli dei guru e anche il buon Ray Dalio ha inserito all'interno del suo portafoglio una esposizione in oro adesso io qui non la trovo però vi posso dire che diciamo c'è stata un incremento appunto di quella che è l'esposizione in oro nel portafoglio invece sappiamo che Warren Buffett non è un amante degli investimenti in oro perché lui dice è un qualcosa che non dà un rendimento e quindi è un qualcosa che non mi piace io sono d'accordo con la visione di Warren Buffett fino a un certo punto nel senso che oggi noi stiamo vivendo un mondo che è diverso da come lo conoscevamo fino a qualche tempo fa e quindi ci troviamo in una situazione stranissima dove è difficilissimo ottenere dei rendimenti stiamo andando a prendere dei rischi secondo me molto alti sul mercato azionario perché sappiamo che i pie sono diciamo si stanno alzando parecchio quindi quello che è il rapporto prezzo utili quindi le quotazioni sono molto alte andiamo a pagare molto le aziende che andiamo ad acquistare e di conseguenza in una situazione come questa l'oro può essere una via d'uscita tra l'altro visto che non vi sono rendimenti cioè se io vado a comprare il Bund piuttosto che un altro titolo di Stato anche banalmente il BTP ho comunque dei rendimenti molto bassi quindi l'essere investito in oro che è vero che non mi dà una rendita è vero che non mi dà una cedola può essere comunque un'alternativa in un momento dove faccio un esempio io faccio l'imprenditore e sui conti correnti delle società noi paghiamo degli interessi negativi su quelle che sono le giacenze quindi in questa fase l'investimento su l'oro può essere un qualcosa che ci tutela poi c'è il tema legato al dollaro ovvero all'euro dollaro e a quelle che sono le dinamiche legate proprio all'eventuale apprezzamento o deprezzamento del dollaro io vedo un euro dollaro tendenzialmente che si va ad indebolire e quindi probabilmente le quotazioni dell'oro potrebbero beneficiare anche di questa cosa soprattutto per gli acquisti che arrivano magari da fuori da mondi non direttamente legati al dollaro quindi vediamo un po' i prodotti che offre BNP Paribas ci sono nove prodotti di cui appunto alcuni sono long ed altri sono short ne abbiamo 5 long e 5 short io darei due o tre indicazioni su questi strumenti allora sono calcolati ne prendiamo uno a caso così almeno andiamo proprio nel andiamo a vedere proprio come è costruito questo strumento questi prodotti sono sono pensati in questo modo ci danno un effetto leva e ci danno diciamo quindi dobbiamo impegnare una quota di capitale minore per prendere comunque un'esposizione soddisfacente sul mercato hanno tra i vari dati che dovete considerare allora abbiamo l'eising che è un valore univoco ovvero identifica il prodotto in maniera univoca vi faccio vedere come dovete fare se vi interessa ad esempio acquistare un determinato prodotto clicchiamo sul tasto destro facciamo copia e andiamo all'interno della piattaforma di negoziazione ok questa che sto utilizzando è quella di directa andate a copiare qui il vostro certificato poi cliccate sul tasto sinistro e apriamo il book multifunzione quindi andiamo a vedere questo strumento come viene prezzato tra l'altro Matteo mi raccomando se vuoi che vediamo altre cose dimmi pure o se dobbiamo se ci sono trovo molto interessante anche vedere che a volte è un po' è un po' complicato il passare dal sito dove sono le informazioni alla piattaforma su cui effettivamente si va a inserire il trade per cui trovo sia molto informativo il questo questa tua no io questo lo faccio vedere sempre perché secondo me è utile perché se poi le persone devono andare ad acquistare i prodotti devono capire come come fare vedi che questo qua per esempio è quello che abbiamo dato questa mattina ecco vi do un altro vi do un altro input guardate questa mattina questo qua è il livello di 380 che è quello che abbiamo inserito guardate ci sono quattro persone che si sono posizionate su tale livello ovviamente quando vedete invece le sites grosse adesso vediamo il book e poi entriamo all'interno diciamo del ragionamento sull'oro però queste secondo me sono cose tecniche che dovete comprendere spero che si venda bene quando vedete i numeri grossi lasciatemi so che non è tecnicissimo dire i numeri grossi però questi qui sono i pezzi che mette a disposizione BNP Paribas quindi alla domanda sì ma se io compro il certificato poi c'è qualcuno che me lo ricompra la risposta è sì nel senso che BNP Paribas si pone in bid e in ask in denaro e in lettera in italiano e sostanzialmente offre quella liquidità al mercato tale per cui se voi volete vendere questo certificato sull'oro c'è sempre BNP che ve lo ricompra ovviamente Enrico è piccolino e mette questi ordini qui BNP Paribas è molto grande è probabilmente una delle più grosse banche in Europa e quindi ovviamente espone 50.000 pezzi nel caso del SP500 e nel caso dell'oro 100.000 pezzi voi avete fatto una size particolarmente grande volete volete appunto chiudervela se doveste consumare tutti i pezzi che mette BNP Paribas ovviamente ve ne metteranno altri subito dopo quindi questo è un pochettino quello che avviene quindi non c'è nulla di astratto i certificati prima si comprano e poi si vendono anche se siano se stiamo parlando di certificati come dire di certificati short quindi noi prima il certificato lo compriamo e poi lo vendiamo poi ovviamente dobbiamo vedere se stiamo comprando un certificato long o un certificato short cosa dobbiamo sapere dobbiamo sapere quello che è il valore del livello di strike e quelle che sono le indicazioni della leva e della distanza dal livello di knockout allora a livello di knockout questo lo dico per chi magari fosse nuovo il certificato annulla completamente il suo valore quindi se questo certificato in questo momento vale circa un euro ok se l'oro dovesse arrivare a 1675 dollari oncia andrebbe il certificato annullerebbe il suo valore e verrebbe rimborsato a zero quindi non verrebbe rimborsato per quanto riguarda invece la leva la vedete qui ovviamente il sito di benpeperibas si aggiorna in tempo reale quindi voi in ogni momento potete scegliere il sottostante torna scusate la leva offerta tornando ai prodotti in quotazione al momento vi segnalo una cosa importante non vi è differenza tra un prodotto e l'altro o meglio quello che cambia il sottostante è sempre lo stesso è l'oro a pronti quindi lo spot gold quello che cambia di fatto è la distanza dal livello di knockout quindi più la distanza è lontana voi li potete anche ordinare più la distanza è lontana più avremo una leva bassa più la distanza invece del livello di knockout dal prezzo attuale sappiamo che oggi l'oro quota circa 1780 dollari più la distanza appunto del livello di knockout è vicino appunto al prezzo attuale più aumenta la leva e si riduce appunto quello che è lo spazio che va ad annullare di fatto il certificato quindi spero che sia chiaro per tutti se ci sono domande mi raccomando fatemene qui in questo caso abbiamo appunto i certificati long e short tu vuoi aggiungere qualcosa Matteo so che la domanda classica è ma come faccio rapportare il prezzo del certificato al prezzo del sottostante sì questa è una domanda che abbiamo ricevuto tante tante volte e la corrispondenza per quanto non sia subito intuitiva diventa diventa diciamo un pochettino più più facile da comprendere quando quando si vedono diciamo le formule che sono la base del calcolo del calcolo del prezzo del del certificato avevamo fatto un video se non ricordo male era basato su su indici se non diciamo qualche qualche mese fa come si calcola il prezzo di un certificato secondo me qualcosa esce se lo trovo ve lo mando in chat eccolo qua come calcolare eccolo qua primo risultato eccolo qua copia ve lo mando in chat così lo avete tutti mi raccomando salvatevelo e andate a guardarlo perché così almeno non investiamo tempo questo momento su questa cosa però almeno così lo avete l'ho mandato solo a organizzatori ed esperti ho sbagliato lo mando qua a tutti ok all'interno della della chat ok così almeno ce l'avete tutti quanti eccolo qua allora intanto rispondo alla domanda di Fernando che mi chiede mi chiede come mai l'oro è positivo e il certificato è negativo allora questo è un qualcosa che capita spesso sul sul nostro sito per due motivi questo prodotto è un prodotto con leva 16 quindi anche la minima la minima variazione del del sottostante genera un cambiamento piuttosto consistente nel prezzo del turbo la differenza è che la quotazione del sottostante rispetto alla performance del prodotto hanno origine in due orari diversi la quotazione del sottostante viene calcolata dall'apertura del sottostante stesso per cui quando diciamo particolare per loro se non ricordo male le mezzanotte e quindi a partire da mezzanotte viene calcolata la performance per quanto riguarda il prodotto invece viene calcolata la performance dalla giura del giorno precedente questo fa sì che soprattutto per i sottostanti che quotano anche quando il mercato dei certificati è chiuso oppure ad esempio lo standard in purso oppure l'euro e dollaro oppure le materie prime ci sia una differenza in quello che viene visualizzato sul sito naturalmente se si considera se si compra il prodotto si segna il valore del prodotto in un certo orario il valore del sottostante e il valore del tasso di cambio diciamo e poi riguardiamo la posizione un giorno dopo un'ora dopo un mese dopo vediamo che effettivamente le performance sono allineate e semplicemente abbiamo dovuto fare una scelta su che tipo di performance mostrare e questa è quella che è stata fatta poi puoi ripetere la parte del knockout per favore chiede Maurizio sì certamente allora il knockout adesso magari condivido il mio di schermo vediamo se io poi nel frattempo ho diciamo estrapolato un grafico dell'oro visto che poi ci chiedono delle previsioni sui vari strumenti la facciamo diamo proprio delle idee operative sull'oro ok allora intanto spero si veda il sito perché secondo me è la maniera migliore per vederlo allora qui sul sito abbiamo per i prodotti turbo livello di strike e livello di knockout che coincidono sempre quindi sono 1675 dollari per i turbo questi valori rimangono fissi per sempre quindi diciamo quando comprate il prodotto fino a quando il prodotto scade questi valori rimangono sempre costanti cosa succede in questo caso noi siamo long sull'oro quindi abbiamo un'aspettativa positiva sul sottostante però cosa succede se invece le nostre aspettative si rivelano sbagliate e quindi l'oro che adesso quota 1775 circa dovesse scendere di valore diciamo fino a 1675 ci sarà una perdita sul sul valore in denaro lettera del prodotto quindi quello che adesso vale 96 centesimi incomincerà a valere sempre meno ad esempio se si dimezza il diciamo la differenza tra sottostante e strike tendenzialmente si dimezzerà anche il valore del turbo quindi se la parità è 100 quindi se diciamo da 1770 diventa 1720 io mi posso aspettare che il presto in denaro lettera diventa diventi la metà quindi per da 50 a 50 punti se estendiamo questo ragionamento fino al sottostante che crolla fino a 1675 viene toccato il livello di strike il livello di knockout quindi viene toccato il livello di knockout immediatamente il il certificato scade diciamo perde il perde completamente il suo valore non può essere più venduto non può essere più acquistato il il certificato diciamo rimborsa noi diciamo rimborsa a zero perché è come se ci fosse un esercizio anticipato del certificato scompare dal vostro book dal vostro portafoglio viene generata la minusvalenza che può essere poi compensata con da un punto di vista fiscale quindi è come se il certificato morisse avremo una perdita che è pari all'intero capitale investito spero di essere di essere stato chiaro Maurizio se diciamo qualcosa non è stato continua a non essere chiaro non esitare a fare a fare altre domande ecco aggiungo una cosa soltanto che secondo me è molto importante soprattutto per chi è abituato a operare con contratti per differenza o altri tipi di prodotti come i future questi strumenti possono valere al minimo zero cosa vuol dire vuol dire che supponiamo che di essere long sull'oro domani succede che l'oro non lo vuole più non lo vuole più nessuno e apre a 1200 dollari il certificato può andare a valere soltanto zero non può avere una valutazione negativa quindi non è che come avviene per esempio sui future o su altri strumenti vi vengono a chiedere quella che è la differenza quindi se il certificato va a zero può andare a zero e non può andare sotto zero questo secondo me è molto importante perché abbiamo visto diciamo diverse casistiche con vari gap di mercato che hanno portato diciamo lo strumento a perdere più di quello che era al margine impegnato cose di questo tipo quindi mi raccomando è molto importante soprattutto in una fase come questa dove potrebbe tornare nuovamente la volatilità qualora dovesse tornare problematiche legate al covid qualora dovessero tornare problematiche di altra natura o comunque se i mercati dovessero tornare perché magari le banche centrali smettono di portare tutto quell'apporto di liquidità di sostegno anche diciamo mediatico che stanno dando perché di fatto quello che muove i mercati più ancora dei soldi è la fiducia secondo me quindi in questo momento c'è una sorta di azzardo morale dove le persone comprano perché tanto poi c'è mamma banca centrale che in qualche modo ci mette una pezza ecco perché in realtà i dati economici non sono migliorati ma la gente compra perché non ha alternative su dove mettere i soldi ma soprattutto sa che comunque in qualche modo le banche centrali entrano questo secondo me è una zappa morale molto importante che potrebbe poi sfociare in un ritracciamento molto significativo non sappiamo come e quando ma secondo me prima o poi avviene detto questo finché le banche continueranno a sostenere la situazione è questa però mi raccomando attenzione mettete gli stop loss e se lavoriamo con prodotti a leva ricordiamoci di utilizzare soltanto i fondi che possiamo perdere perché sappiamo che si può perdere su questi strumenti un disclaimer era doveroso giusto Matteo eh sì 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 certamente e diciamo per rispondere alla domanda di Davide come si valuta il rischio di un certificato non è rischioso il fatto di perdere tutto il capitale il rapporto ad un profitto anche se fosse del 10% allora certamente sono dei diciamo non c'è nulla da nascondere sono dei certificati che hanno dei rischi consistenti soprattutto quello che abbiamo aperto che è una leva 15 quindi ovviamente ehm il dobbiamo essere eh attenti quando andiamo ad operare su su questi prodotti però diciamo il fatto che la leva sia 15 non vuol dire che noi dobbiamo andare a impiegare tutto il nostro capitale su questo tipo su questo prodotto effettivamente se io ho un capitale di 100.000 euro dedicato al trading e voglio prendere posizione su un nozionale di 20.000 euro di 20.000 dollari per farla più 20.000 euro eh sull'oro non c'è bisogno che vada a investire 20.000 euro in diciamo in in valore di lettera di questo prodotto quindi non avrò andrò a comprare 20.000 diviso 0,98 che è al momento è sufficiente che vada a investire un quindicesimo di un sedicesimo di questa di questa cifra io voglio essere esposto a 20.000 euro di oro è sufficiente comprare 20.000 diviso leva sul su questo specifico strumento se poi per un qualsiasi motivo un prodotto a leva 15 non è quello che fa per me non c'è nessun problema diciamo la parte bella di questo tipo di certificati è che sono disponibili con varie leve quindi se la leva 16 è troppo elevata possiamo comprare una leva 10 se anche la leva 10 è troppo elevata possiamo scendere una leva 4 quindi è assolutamente libero la scelta del del prodotto quindi non è libero soltanto sottostante non è libero soltanto la scelta della direzione quindi long e short ma anche la leva che voglio impiegare per 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 investire sull'oro sempre per rispondere a Davide che secondo me è un'altra domanda molto molto rilevante molto interessante quindi posso dedicare la percentuale che scelgo io in un certo senso sì diciamo il prezzo di questo certificato quello che guardavamo prima è di un euro circa l'investimento minimo su questo certificato è un euro e quindi posso decidere io quanta parte di quanti certificati comprare ne posso decidere di comprarne 1000 posso decidere di comprarne 10.000 posso decidere di comprarne anche soltanto 10 magari 10 non è efficiente da un punto di vista non è efficiente da un punto di vista sì diciamo con le commissioni anche se diciamo alcuni alcuni intermediari applicano delle commissioni davvero molto molto strette e soprattutto magari bisogna vedere anche il rapporto di rischio rendimento il 10% magari per può non essere un rendimento accettabile visto che sono insiti nel prodotto per un altro investitore lo può essere quindi non tutti i sottostanti sono per tutti e non tutti i certificati sono per tutti se una leva elevata non fa per le tue caratteristiche di investimento naturalmente non non c'è nessun obbligo di acquistare questo prodotto nello specifico ecco ecco io penso questo che l'unica cosa che conta cioè tutto tutte le tematiche legate alla leva strike piuttosto che appunto a livello di knockout cioè l'unica cosa che conta è quella che si chiama consideration cioè quella che è l'esposizione che tu vai a prendere a mercato tu sai che se compri 100.000 euro di oro cioè di controvalore sull'oro se l'oro si muove dell'un per cento tu guadagni mille euro se scende dell'un per cento tu perdi mille euro questa è l'unica cosa che è veramente importante quando si fa trading poi in realtà sapete che quello che state investendo sui certificati potenzialmente lo potete perdere tutto e quindi potete anche valutare di mettere uno stop loss di carattere monetario questo certificato vale un euro se io compro 500 certificati so già ex ante che perderò 500 euro alla peggio il problema è che non so quanto mi sto esponendo anche quando vado a fare long e short io devo avere ben chiaro non la leva che sto utilizzando quanto l'esposizione globale del mio trade quindi la leva ci può essere utile per vedere quella che è l'esposizione globale però secondo me quella è quando si fa trading l'unica cosa che conta tutto il resto poi sono dettagli perché tu puoi fare un trade da 100.000 mettendo un margine da 20.000 piuttosto che da 5.000 se la leva è molto più alta però sempre di un trade da 100.000 euro o 5.000 euro quello che volete si sta parlando quindi quella secondo me è la cosa fondamentale io direi vogliamo fare un'analisi sull'oro diamo anche magari delle indicazioni su dove potrà arrivare perché il trend è assolutamente rialzista in questa fase quindi io ritengo ti ripasso forse magari ti ripasso lo schermo così puoi puoi mostrare anche se hai qualche grafico che può essere interessante sì sì infatti perché ho visto che ci stanno chiedendo appunto delle analisi sugli strumenti allora secondo me oggi investire sull'oro è una delle cose più intelligenti che si possono fare noi è un po' che ne parliamo sulle pagine del nostro sito lo troverete sicuramente quello che è la cosa interessante è come di fatto ci troviamo in uno dei pochi strumenti che sta avendo una direzionalità chiara precisa e si sta muovendo in maniera tecnica piuttosto precisa quindi l'idea è che si debba continuare con quello che è il trend rialzista non vi è nessun segnale di cedimento non vi è nessun tipo di indicazione che ci faccia pensare che ci potrebbe essere uno storno dalle quotazioni attuali e io dico la verità sono particolarmente rialzista su questo strumento quindi ogni qualvolta dovesse esserci un ritracciamento dai livelli attuali secondo me è una buona occasione per comprare ecco vedete questo per esempio a 1750 è un livello interessante è un livello diciamo supportivo che può che può essere significativo magari si può valutare di fare diversi ingressi su diversi livelli se volete utilizzare i certificati turbo emessi da Mepi Paribas un'idea potrebbe essere quella di lavorare su strike differenti visto che a livello di scadenze probabilmente adesso poi guardiamo sono tutte a dicembre ecco questa è un'altra cosa i certificati turbo scadono quindi avendo la scadenza a dicembre poi nel caso dovrete vendere i certificati che avete in portafoglio se volete mantenere la posizione rialzista e ricomprare quelli nuovi che nel frattempo verranno emessi ecco il tema qui secondo me è che un ritracciamento fino ad area 1750 ci potrebbe essere ma i target rialzisti secondo me sono ben più alti di quelli che vediamo in questo momento quindi io mi aspetto un oro che possa raggiungere i 1900 dollari da prima come target e che possa andare anche più in alto nel futuro prossimo diverso è il ragionamento invece legato al petrolio che è un'altra delle commodities che noi trattiamo e che è offerta da BNP Paribas perché se dell'oro diciamo io non vedo particolari cambiamenti in ambito appunto di utilizzo cioè comunque è considerato una riserva di valore un bene rifugio sull'oro ci sono una serie di tematiche che devono essere considerate cioè l'oro a differenza del scusate il petrolio a differenza dell'oro si consuma ok serve alla produzione quindi sicuramente se la produzione si ferma le quotazioni del petrolio difficilmente possono ripartire ma soprattutto c'è una spinta verso il green questo che vedete la quotazione del petrolio in questo momento siamo sui 40 dollari allora premesso che secondo me il petrolio continuerà ad apprezzarsi perché comunque siamo all'interno di un movimento che dai minimi vi ricordate quando ci fu il problema del diciamo delle quotazioni del petrolio in caduta libera dai minimi che sono stati toccati adesso i prezzi del petrolio stanno ripartendo e io penso che ci potrà essere un ulteriore apprezzamento penso che fino a 50 dollari al barile potremmo arrivare anche in tempi abbastanza rapidi ovviamente il tema è legato alla domanda se la domanda di petrolio o di comunque beni legati al petrolio non ripartirà con il crollo della domanda tu puoi tagliare la produzione di quanto ti pare ma se a nessuno interessa quello che vendi difficilmente i prezzi saliranno detto questo detto questo appunto secondo me ci potrà essere un movimento a rialzo però tra tutte le commodities io penso che il petrolio perderà via via di interesse non oggi non domani ma comunque nel corso degli anni anche perché si sta andando sempre più verso una diciamo un'energia pulita quella che si chiama energy transition per utilizzare dei termini che vanno per la maggiore in questo momento e quindi su questo farei attenzione diverso dall'investimento sul petrolio magari l'investimento su aziende legate all'ambito petrolifero faccio un esempio Eni Eni si sta impegnando parecchio Enel nell'andare verso tipi di energia pulita e fare investimenti in questo senso quindi oggi io più che andare long di petrolio anche se penso che le quotazioni potranno raggiungere agevolmente 50 dollari per poi rivedere un ritracciamento io penso che in questo momento sia più corretto andare a cercare tutte quelle aziende operanti nell'ambito del petrolio che sono state depresse per via del covid per via delle quotazioni per via di tutta una serie di ragioni che in questo momento le fanno essere depresse allora vediamo c'è un'altra domanda seguo tutte le mattine allora Claudio rispondo visto che c'è una domanda per me vi segnalo questo allora io tutte le mattine do un'idea operativa tramite Turbo Daily se andate a cliccare su articoli e cliccate su Turbo Daily trovate tutte le varie idee operative appunto che proponiamo adesso la settimana scorsa io rinferi l'ha fatto Riccardo però diciamo che normalmente lo faccio lo faccio io e quindi qui avete tutta una serie di indicazioni io vado a mettere un prezzo per rispondere Claudio dice indica un prezzo che sarà più vantaggioso per entrare quando si verificherà quella condizione di valore tenete presente una cosa quando andiamo a vedere un certificato c'è uno spread denaro lettera io non posso essere super preciso nell'inserimento dell'ordine quindi metto un ordine quasi giusto su quel livello di prezzo e magari cerco di entrare anche un filino meglio quindi non è ovviamente preciso al centesimo perché appunto come vi segnalavo c'è uno spread denaro lettera a volte magari un prezzo mi sembra meglio di un altro quindi do un'indicazione e poi magari entro un filo meglio anche perché peraltro vi ricordo che Turbo Day li è fatto con soldi veri appunto all'interno dell'operatività e quindi comunque bisogna fare anche un po' di attenzione quando si vanno a mettere gli ordini in piattaforma bene comunque ve lo ricordo a tutti tutte le mattine alle 9 e 30 più o meno esce la nostra idea operativa oggi abbiamo dato un long su SP500 anche in questo caso l'idea era quella di attendere che ci fosse un ritracciamento appunto sull'indice americano per poter rientrare quindi sfruttare quella che è la forza che vediamo in questo momento ci rimane il natural gas da vedere giusto Matteo? Sì 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 poi c'era anche una domanda sul palladio il gas naturale tra l'altro è appena arrivata una domanda che ancora non ho letto ma parla proprio di un turbo long sul gas naturale e c'era una domanda sul palladio se avessi se è un sottostante che studi oppure che non non so che ti interessa a meno oppure che che non guardi o che non fa che non rientra nelle tue corte ecco allora devo dire la verità che io a livello di commodities seguo prevalentemente quelle più seguite quindi oro e petrolio devo dire che mentre sull'oro non so perché tendo a performare piuttosto bene anche in turbo daily dei buoni trade che abbiamo fatto li abbiamo fatti sull'oro che abbiamo quasi sempre preso i movimenti correttamente invece le perdite maggiori le abbiamo fatte sul petrolio quindi diciamo che io in generale magari do un'occhiata ma li seguo prevalentemente oro e petrolio la verità è che tendo a performare meglio sull'oro che sul petrolio non so come mai appunto sul petrolio tante volte non riesco a individuare quelli che sono i movimenti ma c'è anche un discorso di opportunità nel senso che se tu riesci ad avere delle idee più chiare su uno strumento piuttosto che un altro è giusto che tu vada a tradare quello strumento sulle commodities c'è da dire che soprattutto quelle più sottili possono essere soggette a un livello di volatilità superiore magari determinato da una serie di indicazioni che arrivano e che insomma possono esporci a maggiori rischi quindi se io dovessi dare qualche indicazione vi direi soprattutto se siete all'inizio magari volete concentrarvi sulle commodities cercate di magari andare a scegliere quelle commodities legate al appunto legate all'oro e al petrolio sulla stagionalità noi sul sito abbiamo la stagionalità sul petrolio eccolo qua e diciamo che la stagionalità è tendenzialmente positiva durante l'anno fino a la fine di settembre quindi fino alla fine dell'estate poi normalmente il ritracciamento arriva verso la fine dell'anno e poi riparte diciamo con l'inizio con la metà di febbraio quindi diciamo un andamento diverso rispetto a quello che vediamo per esempio sull'oro che invece nella prima parte dell'anno tende a performare piuttosto bene quindi siamo ancora in una fase dove il petrolio tende a performare meglio ma stiamo per entrare appunto con la fine dell'estate entriamo in una fase di stagionalità negativa quindi ci sta quel ragionamento che avevamo visto sul petrolio che potrebbe continuare il rialzo fino ad andare a circa 50 dollari al barriere fino alla fine dell'estate per poi appunto ritracciare verso la parte finale dell'anno ovviamente quest'anno è un anno un po' particolare perché stiamo parlando di una situazione laddove abbiamo quelle incognite legate appunto al covid e a quelle che saranno i dati io dico la verità oggi sono in ufficio sono rientrato in ufficio da qualche giorno e l'impressione che ho io è che comunque ci sia meno traffico meno persone in giro e meno persone negli esercizi commerciali quindi un impatto io vivo in Svizzera quindi non ho il polso di quella che è la situazione magari in altri paesi però almeno qui dopo mesi che sono stato di fatto chiuso in casa l'impressione che l'economia non sia ancora ripartita al 100% poi ognuno magari vede il suo piccolo orticello vede quello che succede vicino a lui da voi come è ho più esperienza sulla metropolitana milanese se un mese fa era assolutamente vuota anche in ora in ora di punta quindi diciamo il sogno di trovare un sedile libero veniva realizzato piuttosto spesso partire soprattutto da ieri invece ho notato molta più gente in metropolitana cosa che in realtà non mi aspettavo visto che comunque si va si va verso l'estate quindi più periodo di ferie immaginavo che più a partire da settembre fosse fosse più più popolata ecco la metropolitana per il resto noi siamo nella zona di una zona di Porta Nuova e invece vedo che è sempre molto affollato il parco quello che hanno che hanno fatto nuovo vicino la torre di Unicredit quello invece è sempre giustamente forse molto affollato beh dai comunque è uno spazio aperto quindi tra l'altro appunto lo sì sì certo e niente quindi allora vediamo se dobbiamo rispondere a qualche oh c'è Giorgio che ha forse esatto vediamo allora ha in portafoglio cerchiamolo allora guardate che bello i certificati hanno il grande vantaggio di essere di avere un codice univoco non mi insultare però di fatto è come il codice a barre del supermercato no? che è il codice è un'ottima analogia quindi Giorgio dice io ho visto questo prodotto che è NL001535627 quindi noi andiamo a inserirlo qui lo cerchiamo e vedete che questo è il prodotto di selezionato appunto da Giorgio allora caratteristiche di questo prodotto livello di strike 1,45 scadenza agosto occhio ok quindi questo prodotto scade ad agosto quindi mi raccomando non scade a dicembre come tutti gli altri quindi nel caso dovreste appunto venderlo e mantenere la posizione sul diciamo aprire quello sul gas naturale con scadenza successiva il prezzo è calcolato sul future scadenza settembre questo è molto importante perché per esempio il gold che abbiamo visto prima è calcolato sul prezzo spot il prezzo spot è un prezzo a pronti cosa vuol dire? vuol dire che non è un prezzo a termine diciamo che è un prezzo diciamo com'è che lo diciamo come lo spieghiamo in maniera semplice Matteo? Allora sì diciamo il prezzo spot viene utilizzato per le commodity solitamente per i materiali preziosi quindi oro argento platino palladio eccetera invece su particolare gli energetici perché sono anche quelli più scambiati viene utilizzato il future cioè il prezzo di consegna di un determinato sottostante ad una certa scadenza diciamo è più che altro un motivo un motivo di di tradizione è così che vengono scambiati questi questi materiali se non c'è diciamo una vera almeno una vera motivazione su quale sia sia meglio semplicemente il mercato si è spostato su su questi su questa su queste funzioni insomma su questa su questo modo di fare trading perché perché tendenzialmente il i futures vengono utilizzati come copertura quindi io produttore di petrolio so che dovrò consegnare a settembre una una certa quantità di 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 gas naturale in questo caso quindi produttore di gas naturale devo consegnare a settembre non voglio rischiare che tra oggi la scadenza del del future quindi i primi di settembre il 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 prezzo si muove quindi lo vendo ora quindi fisso il prezzo ora e consegnerò poi il il prodotto a a settembre quindi è una è un è per motivi di copertura la stessa cosa non viene fatta tradizionalmente per i materiali preziosi che vengono comprati e venduti al al prezzo del momento per diciamo poi ogni future ha un po' le sue caratteristiche particolari ad esempio perché era stato largamente citato il WTI rispetto al brand la differenza che uno fosse diciamo solo con consegna fisica in cui materialmente veniva consegnato il petrolio mentre l'altro aveva una liquidazione monetaria quindi veniva veniva pagato un prezzo un prezzo per ogni diciamo barile equivalente in in portafoglio quindi ci sono i futures hanno molte caratteristiche diciamo particolari che è bene conoscere prima di fare di fare trading sul petrolio poi chiaramente se in condizioni normali le differenze sono tutto sommato sono tutto sommato poche anche se vediamo che oggi è una giornata con relativamente poca volatilità rispetto al gas naturale che solitamente è molto molto volatile abbiamo che su scadenze diverse del futures i movimenti sono addirittura opposti per cui vediamo che la scadenza di ottobre per la più vicina aumenta di valore se invece andiamo su una scadenza un pochettino più lontana il prezzo del sottostante è addirittura decrescente quindi sono cose che vanno guardate vanno considerate ecco ecco una cosa importante Benpevi sta quotando il settembre quindi voi dovete guardare questo ok quindi se trovate diciamo incongruenza tra quelli che sono i prezzi magari del sottostante che vedete qui e quello che state guardando voi sulla vostra piattaforma di trading tenete presente che dovete guardare la scadenza corretta lo specifico qui trovate tutti i vari future ecco vedete 1,94 in questo momento qui avete anche il grafico come potete notare c'è stato un apprezzamento piuttosto importante del natural gas nelle ultime settimane io ho trovato una cosa carina sul natural gas ho notato che c'è una stagionalità tendenzialmente negativa cioè il natural gas non si apprezza tendenzialmente è una cosa è una cosa che io non seguendolo in maniera così così importante aspetta l'ho trovato adesso devo trovare quella che è la performance adesso l'avevo trovato prima non so come mai adesso non non lo trovo comunque vedete che la performance è tendenzialmente negativa questi sono i dati che ho trovato dal 91 al 2009 si è notato come appunto non c'è stato un apprezzamento da parte del natural gas ovviamente non sono dati aggiornati però è una cosa che mi aveva colpito quindi voglio andare ad approfondirla quindi detto questo però a parte queste cose che andrebbero ovviamente approfondite l'idea che vi do in questa fase è questa il natural gas è un prodotto sicuramente complesso sicuramente volatile e ha tutta una serie di variabili che dovete considerare che sono appunto l'effetto contango tutta una serie di cose che secondo me sono da considerare anche qui c'è il tema dei riscaldamenti c'è il tema della ripartenza delle delle attività produttive quindi sicuramente è un qualcosa che va monitorato io onestamente non l'ho tradato nel recentemente quello che vedo è comunque che il mercato si sta apprezzando sembra esserci stata un'inversione di tendenza qui secondo me siamo in un'area di resistenza quindi potrebbe esserci uno storno che potrebbe portare i prezzi nuovamente intorno ad area 183 184 da lì potrebbe avere senso secondo me riposizionarsi al rialzo per andare a prendere quelli che saranno eventualmente nuovi massimi di periodo su questo strumento almeno io la vedo così diciamo con un'analisi abbastanza grezza abbastanza rosa bene altre domande allora diciamo c'è una domanda sui su come possono essere utilizzati i certificati a leva come copertura la domanda è molto pertinente infatti sembra una cosa un po' poco è poco prudente diciamo un certificato a leva per coprire un portafoglio ora provo a mostrare il il nostro sito allora ok spero che si veda dedichiamo una sezione nella parte dei certificati a leva quindi andando su investimenti.bmpeparibas.it anzi facciamo tutto il percorso e condivido anche in in chat il il link che è forse la cosa più importante per conoscere meglio i certificati di andare alla parte certificate a leva portare il mouse su mini future certificate e cliccare su calcolo la copertura questo è un è un tool automatico diciamo che aiuta un po' a fare i calcoli che possono essere un pochettino un pochettino noiosi ma facendo un passo indietro e andando al concetto sul perché un prodotto a leva può essere utilizzato come copertura diciamo l'idea è che se io già possiedo un certificato che ad esempio è esposto sull'Eurostox Bank non un certificato un portafoglio che è esposto sull'Eurostox Bank per centomila euro effettivamente se se Eurostox 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 Bank dovesse perdere il 10% allora anche il mio portafoglio deve scendere scenderà del 10% quindi se io compro un prodotto short che mi compensa questa questa perdita posso mantenere il mio la mia visione di insieme indifferente ai movimenti del sottostante quindi proviamo ad andare a vedere andiamo a prendere ad esempio su indici che è come più spesso vengono utilizzati i mini features come copertura vado a prendere non so il Futsimib perché è quello che conosciamo tutti andiamo a mettere per semplicità di calcolo il valore del portafoglio di 100.000 euro quindi cosa sto dicendo sto dicendo che ho un portafoglio che è esposto complessivamente su un indice l'indice del Futsimib e che il mio portafoglio vale 100.000 euro e clicco cerca il software farà il calcolo e mi presenterà tutti i mini short sul Futsimib quindi tutti quelli tutti quei certificati che vanno ad aumentare di valore se il sottostante ne diminuisce di valore investire diciamo me li mostri io posso scegliere la leva che preferisco poi andiamo a vedere perché la leva effettivamente non è troppo rilevante cioè è importante ma non ci deve trarre in inganno io ne vado a prendere una a caso ad esempio questo qua con leva 6 quindi cosa mi sta dicendo che per coprire il mio portafoglio che vale 100.000 euro originariamente devo comprare 16.743 euro di mini futures cioè 50.000 50.000 pezzi circa in questo modo il valore del mio portafoglio aumenta perché i 100.000 euro che già possiedo vado ad aggiungere 16.000 euro di mini futures quindi un totale di 116.000 euro ora vediamo se la copertura funziona quindi se il sottostante perde di valore come si comporterà il mio portafoglio complessivo quindi i 116.000 euro quindi supponiamo che il prezzo del sottostante scenda e vada a 15.000 ad esempio in quanti giorni lo vediamo poi perché è importante mettiamo 60 giorni sempre nella parte in basso vado a vedere cosa è successo al mio portafoglio quindi il il foodsemeep che avevo in portafoglio valeva 100.000 euro ora vale 75.000 euro ho avuto una perdita del 25% il valore della copertura invece è aumentato perché è passato dai 16.000 originali ai 40.000 quindi se il portafoglio è sceso di 25.000 euro di valore la copertura è salita di circa 25.000 euro quindi l'investimento complessivo è circa uguale perché dico circa e quindi perché da un lato è 116.730 euro e dall'altro lato è 116.000 e basta quindi ho avuto una perdita di 700 euro questo cosa mi vuol dire mi vuol dire che per mantenermi una copertura per 60 giorni sul foodsemeep il mio costo quindi quello che vado a pagare all'emittente è di 700 euro quindi la domanda successiva è se effettivamente è conveniente pagare 700 euro all'emittente per proteggere il portafoglio per 60 giorni questa poi naturalmente è una domanda a cui soltanto voi riuscite a dare una risposta perché questo diciamo questa simulazione funziona perché in senso inverso foodsemeep e minishort si comportano alla stessa maniera quindi se il foodsemeep aumenta di 10.000 punti il mio sottostante perderà un euro scusate il mio prodotto perderà un euro perché la parità è 10.000 quindi c'è sempre un fattore di conversione che è fisso tra il sottostante e il nostro prodotto se quindi compro un numero di mini corretto riesco a immunizzare il mio portafoglio a qualsiasi variazione del prezzo del sottostante piccolo passo indietro all'inizio avevo detto la leva è un qualcosa di importante ma non così fondamentale come potrebbe essere in altri in altri casi ora se io vado a prendere prima vi ricordate avevo scelto una leva 6 se invece vado a prendere un leva 15 quindi uno con una leva più alta vado a cliccare vedrete adesso appena il software calcola la copertura vedo che il numero di mini da comprare è tendenzialmente identico da 50.000 siamo rimasti a 50.000 il valore del portafoglio è identico sono 600.000 euro di prima il valore della copertura scende quindi ho una leva più alta devo quindi comprare meno certificati andrò a spendere di meno inizialmente il valore del portafoglio finale è invece assolutamente identico il valore dell'investimento totale in euro ha sempre la stessa ha sempre lo stesso valore quindi 106.866 e 106.211 anche il costo è molto in linea cosa cambia? cambia nel caso in cui mi sia sbagliato ossia se non è più necessaria la copertura quindi ho fatto una copertura quando effettivamente il sottostante aumentava di valore con una leva 15 è più facile che io arrivi a perdere la copertura che quindi vada a raggiungere il livello di strike rispetto ad uno con una leva 6 naturalmente se poi mi rendo conto che la copertura l'ho persa e vado a reintegrarla con un nuovo prodotto con sempre le stesse carattiche io non avrò effettivamente nessuna perdita avrò una perdita se la copertura viene persa ma poi il sottostante e quindi poi il sottostante scende quindi fa una specie di movimento a v incrozzate in questo caso quindi prima aumenta di valore poi scende in quel caso avrò perso la copertura e quindi non e quindi avrò sbagliato diciamo a prendere un prodotto con la leva alta detto questo diciamo l'ora del webinar è scaduta io rimarrò a rispondere alle domande ancora per dieci minuti un quarto d'ora quindi non vi preoccupate se avete qualche domanda se avete qualche oltre qualche chiarimento a cui su cui non sono stato generato di rispondervi io rimango però intanto saluto e ringrazio Enrico per quest'ora che ci ha che ci ha dedicato e lascio un attimo la parola a te se hai qualche no no grazie a voi e grazie a tutte le persone che sono rimaste collegate durante il webinar che appunto sono state veramente parecchie considerando l'orario e il fatto che siamo a metà luglio quindi grazie mille grazie a tutti continuate a seguirci anche su Turbo Daily tutte le mattine intorno alle 9.30 grazie mille Enrico ok allora io continuo a rispondere alle varie domande quindi ma nel caso di un portafoglio di 100.000 euro composto da fondi azionari obbligazionari certificati eccetera vale lo stesso ragionamento? sì diciamo che in un certo senso vale lo stesso ragionamento con i certificati è un pochettino più complicato perché non c'è un movimento lineare tra il sottostante e il valore del certificato stesso quindi lascerei un attimo da parte il tema di certificati però se ho un 100.000 euro che sono esposti e quindi non sanno un benchmark sul Futsimibo sull'Eurostoxx questo ragionamento con delle tutte approssimazioni vale lo stesso quindi se io ho un portafoglio diciamo un fondo è un ETF entrambi che sono esposti sul Futsimib diciamo hanno un benchmark sul Futsimib probabilmente posso avere una copertura molto precisa acquistando i mini short sul Futsimib viceversa se il fondo che è un portafoglio è un fondo in cui la componente attiva è molto è molto rilevante oppure ha un benchmark che è più variegato rispetto diciamo al 100% del Futsimib quindi non so magari è un fondo multi asset che investe su strategie diverse oppure se è un fondo che ha un benchmark differente quindi ha una parte che ha il benchmark su Futsimib un'altra parte sull'Eurostoxx 50 naturalmente la copertura non è non è così semplice bisogna vedere quanto è sensibile il mio portafoglio ad una variazione sul su una determinata fonte di rischio in questo caso abbiamo stato il Futsimib e poi comportarsi di conseguenza è un pochettino più complicato sui certificati è ancora più complicato e quindi è una copertura un po' più approssimativa negli altri casi basta semplicemente trovare qual è il giusto rapporto di variazione sulle fonti di rischio e poi agire di conseguenza quindi ok allora se non ci sono altre domande sono interrompo interrompo qua il webinar Comunque, la registrazione sarà resa disponibile a tutti gli iscritti, quindi dipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o no. Come cosa finale, vi metto in chat la nostra indirizzo email, quindi investimentichiocciolabmpparibas.com. Se avete qualsiasi tipo di domanda su cui volete avere una spiegazione per iscritto oppure un po' complessa, potete assolutamente scriverci a questo indirizzo email. Se invece è una domanda più veloce sul funzionamento di un qualche prodotto, potete utilizzare il nostro numero verde 892 40 43, metto anche questo nella chat, risponderemo direttamente noi. Quindi non è un call center, siamo noi in prima persona che rispondiamo e speriamo di essere in grado di riuscire a dare una risposta precisa a qualsiasi vostra domanda. Grazie a tutti, interromperei qua il webinar e diciamo alla prossima. Sì, diciamo, non necessariamente parlerete direttamente con me, ma anche con un qualche nostro, qualche altro collega che comunque è esperto in maniera simile di certificati, quindi non è così personale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti